bello carico perché dovete sapere che Pilo ha una nuova macchina perché quell'altra l'ha distrutta ma provate a imitare il Paul facendo che Paul ha fatto questa foto qui all'azzate che adesso vi metto Pilo provate a imitarlo però zio tu non sei proprio capace ha distrutto la macchina dobbiamo andare anche noi eh zio con il mio cappa zio il mio cappa ti da in discesa il Pilo sta andando esattamente a 20.000 g che macchina atomica che c'ha il Pilo mamma mia ragazzi comunque oggi saremmo in compagnia di Paul e della sua nuova macchina sponsorizzata Citroen cioè ti faccio anche gli sponsor Paul mi dovresti pagare aiuto ci hanno fermato gli sbirri clic bene possiamo andare perché ci dobbiamo allenare Trio dai che spegni la macchina un'altra volta figa madonna Citroen per show time ti piace come saluto? si minchia cioè sei passato dalla teta pro action al tossico di tu posso fare le foto per Instagram me la presti? ma quanto sei? quanto è tamarro? adesso stiamo cambiando la catena alla mia bici perché alla satia scorsa domenica è successo questo ho appena fatto un volo atomico ho diviso la catena ho spaccato la catena adesso dobbiamo cambiare la catena e stiamo intanto aspettando che finisca la gara di Google ci sono state a 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 Sì, ma non so Vai, yeah Che fare? Che quello è quello che va arrivato Dai Ah, che una finita Wow, subito, grande Veloce, dai che non ho memoria Vai Vai Madonna Vai Davide, se ti alzi lì sei un figo Madonna Oh, non funziona il touch No, non funziona il touch Wow Tira Tira Bravo, Andre A lungo, Tommy Tira 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 Grazie per la visione!